Esercitava anche a Messina il medico sessantenne indagato di violenza sessuale dalla procura della Repubblica di Palermo e colpito da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Con la scusa di visitare i giovani pazienti ed effettuare controlli di natura ginecologica e senologica, secondo l'accusa, le avrebbe palpeggiate nelle zone intime. Da qui l'intervento dei carabinieri della compagnia di Monreale che hanno dato esecuzione alla misura cautelare disposta dal GIP. Il medico specializzato in allergologia esercitava i rambulatori privati a Palermo, Messina e Giarre. Le indagini eseguite fra maggio e luglio scorsi sono scaturite dalla denuncia di una paziente. Il medico, approfittando della visita allergologica e con la scusa di ulteriori necessità diagnostiche rispetto alla consulenza medica richiesta, avrebbe costretto la donna a denudarsi a subire palpeggiamenti in zone intime. Un'altra paziente ha successivamente confermato di essere stata anche lei vittima di analoghi comportamenti. I successivi accertamenti dei carabinieri avrebbero messo in luce la condotta sistematica del medico solo nel corso di visite a pazienti giovani o piacenti, tutte fra i 20 e i 45 anni. Il medico utilizzava la scusa di doverle sottoporre ad approfonditi controlli di natura ginecologica e senologica, ambiti medici sui quali l'indagato millantava di possedere competenze specialistiche in realtà mai conseguite. Le visite oggetto di indagine sarebbero allo stato attuale 12 e le pazienti che hanno subito abusi da parte del medico sono in corso di identificazione.